E' deceduto nel letto di ospedale del Ruggi d'Aragona di Salerno l'albanese 42enne, ferito da un colpo di pistola esploso accidentalmente da un carabiniere che lo inseguiva. Finisce in tragedia il conflitto a fuoco che ha visto coinvolto il bandito e il militare in servizio alla compagnia di battipaglia. Il 42enne era giunto in gravi condizioni al nosocomio cittadino ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico, ma le ferite erano troppo gravi ed espirato alle prime luci dell'alba. La procura di Salerno intanto ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica della tragedia. Tutto è avvenuto in pochi concitati minuti sull'autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Ponte Cagnano. Una Fiat Croma rubata con a bordo tre persone, fra cui il 42enne albanese, hanno abbandonato il veicolo inseguiti dai carabinieri per darsi alla fuga a piedi. Secondo la ricostruzione dell'arma, la vittima si sarebbe girata all'improvviso in direzione del carabiniere che, buttandosi a terra, avrebbe fatto partire involontariamente un colpo dalla pistola d'ordinanza che ha centrato al torace il presunto bandito. L'automobile con i tre uomini a bordo è stata agganciata dalla gazzella dei carabinieri battipagliesi sulla Statale 18 dopo una segnalazione della polizia stradale. Intanto sono ancora in corso le ricerche delle due persone che si trovavano a bordo della Fiat Croma insieme alla vittima. I fuggiaschi sono riusciti per ora a far perdere le proprie tracce. L'auto rubata sarebbe già stata segnalata in altre occasioni da alcuni residenti come veicolo sospetto per una serie di furti messi a segno nella piana del Sele.